Il cuore giallo-blu, Torino vince il torneo amichevole di Pistoia, Rosselli abita qua vicino, sta andando a casa, l'abbiamo bloccato per fare una battuta e un saluto. Grande partita, che impressioni ha avuto di questa nuova PMS che sta lavorando secondo me molto bene? Stiamo lavorando bene, in questa settimana poi fra l'altro senza Valerio abbiamo dovuto trovare un assetto nuovo, io sto giocando più da quattro e quindi anche io devo trovare i meccanismi giusti, anche Ron è un po' da quattro, quindi sicuramente non è facile trovare un assetto perché Valerio è un giocatore importante per noi, che ci dà pericolosità sia a spalla a canestro che a fronte a canestro, portando fuori lunghi avversari. Quindi stiamo lavorando in quella direzione, diciamo queste due partite sono andate bene. Velocissimo, in queste partite precampionato, magari a volte giustamente in palazzetti mezzi vuoti così, oggi cinque minuti di partita vera, quanto ci siamo divertiti anche noi che l'abbiamo vista? Sì, sicuramente fa piacere perché di solito le amichevoli estive sono come hai detto te, con palazzetti semi deserti, con pochi stimoli da parte del pubblico, invece oggi si è venuta a creare una atmosfera abbastanza da partita, diciamo, me lo immaginavo perché comunque conosco bene il pubblico visto ieri, essendoci stato un anno e mezzo, però sicuramente ti aiuta anche questo a prepararti per il campionato. Allora noi siamo pronti, loro prontissimi, ci vediamo presto. A prestissimo. Grazie. Grazie. Grazie.